Terzo successo di fila per il Gela di Pietro Infantino che mette le ali e vola al terzo posto in classifica nel campionato di Serie D. 3-0 senza storia ieri alla Versa Normanna ed entusiasmo alle stelle in casa Biancazzurra che assapora l'area di alta classifica con 22 punti a 4 lunghezze dalla seconda piazza, 5 dal primo posto occupato dall'Igea Virtus. Una grande vittoria davanti al proprio pubblico, quella ottenuta ieri dalla squadra allenata dal tecnico di Cammarata. A regolare la pratica Versa Normanna ci hanno pensato l'attaccante parelmitano Tommaso Bonanno, autore della rete che ha sbloccato il risultato, e la doppietta di Corrado Montalbano. Una gara dominata da Gelesi sin dal primo minuto con il portiere Saitta rimasto praticamente inoperoso per tutto il match. Mister Infantino lascia in panchina ancora una volta Nassi optando per il 3-4-3 con Montalbano, Bonanno e Kosovan terminali offensivi. Un tridente che funziona a meraviglia grazie anche alle intuizioni geniali di Capitano Alessandro Bonaffini, sempre pronto ad illuminare il gioco dei bianco-azzurri. Gela già pericoloso al primo minuto grazie ad una serie di batti e ribatti davanti alla porta difesa da Lombardo con Chidichimo prima e poi Montalbano murati dalla difesa ospite. Al 14esimo ci prova l'Ucraino Kosovan su calcio piazzato ma il tiro è debole e facile preda dell'estremo difensore Campano. Un minuto dopo padrono di casa vicinissimi al gol del vantaggio con Bonaffini che appostato sul primo palo di testa colpisce il legno. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 23esimo quando Bonanno si fa trovare pronto in area di rigore avversaria deviando di testa la palla calciata da Evola su calcio di punizione. 1-0 e gara sbloccata dall'attaccante parermitano al suo secondo centro consecutivo con la maglia del Gela. Il raddoppio dei padroni di casa arriva quasi allo scadere del primo tempo con Corrado Montalbano che beffa il portiere della versa con una pennellata di gran classe ma l'assist del capitano Bonaffini è davvero fuoriclasse. Si va sul riposo con un Gela che con autorità merita il doppio vantaggio e la versa stordito dall'1-2 dei padroni di casa. Nella ripresa la musica non cambia. Già dopo quattro giri di orologio è di nuovo Montalbano con quest'ultimo bravo ad inserirsi sul colpo di testa all'indietro di un difensore della versa e a beffare la retroguardia casertana. 3-0 e versa in pratica alle corde. La gara a questo punto scivola via con il Gela che controlla agevolmente il match ma che tenta comunque di calare il poker con Bonanno e il neoentrato Nassi. All'attribilice fischio esplode la Gela e Biancazzurri che raccolgono con merito gli applausi del Presti e che adesso sono attesi dalla difficile trasferta in casa della Cavese. Una gara dà la sapore speciale per l'ambiente biancazzurro che ritrova la squadra campana a distanza di anni dalle sfide tra i professionisti.